buongiorno amici da massimo foghetti oggi è giovedì 13 gennaio 2022 e sarà una bella giornata se avete un barometro guardate come l'alta pressione si è alzata con indici veramente inusuali ma prima di guardare il tempo diamo un'occhiata al santo del giorno e vediamo che oggi si festeggia Sant'Ilario di Poitiers che visse ai tempi dell'imperatore Costanzo nato da una delle più nobili famiglie della Francia si convertì al cristianesimo in un tempo in cui ancora dilagava il paganesimo fu nominato vescovo a furor di popolo tanto si era distinto per la sua carità e per la sua disponibilità nei confronti degli altri scrisse un trattato sulla Trinità combatte l'arianesimo e fu nominato dottore della chiesa dunque un santo importante un santo che era anche un uomo dotto un uomo di cultura ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo così come abbiamo annunciato e vediamo il sole un po' che splende un po' su tutte le marche tempo stabile solleggiato sulla regione grazie al rinforzo dell'alta pressione minime ancora contenute massime in lieve rialzo il vento spira da nord e le temperature però sono in calo quindi occorre sempre coprirsi anche se splende il sole ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dal Corriere Adriatico questa mattina vediamo subito la pagina di Fano dove si parla di carnevale purtroppo il carnevale a febbraio non si farà a Fano e a causa del covid anche quest'anno sarà rinviato nel mese di luglio carnevale vince ancora il covid purtroppo i carri torneranno solo in estate la decisione era nell'aria vista l'aggravarsi della situazione e Gian Marioli ma un cartellone comunque durante la settimana grassa si farà Gian Marioli era un po' sull'avviso sapeva che la situazione sarebbe precipitata impossibile ha detto riuscire ad organizzare la manifestazione così come la conosciamo l'amara sorpresa atto di vertici dell'ente impegnati ora ad elaborare un programma per la settimana grassa in cui fare confluire almeno delle iniziative per i bambini in presenza insomma un carnevale ridotto un cenno per il carnevale per poi esplodere come è stato fatto l'anno scorso durante l'estate comunque non è la stessa cosa ma non è la colpa di nessuno il comune tuteli le casette del duce è un appello questo dell'ecomuseo appunto di metauriglia che vuole salvaguardare un aspetto appunto di questo territorio che va scomparendo le casette del duce stanno un po scomparendo con un ritmo lento ma inesorabile sono state costruite nel 1934 per l'insediamento di 115 famiglie che avevano avuto la possibilità di avere non solo una casetta ma anche un orticello per portare avanti appunto il menage di famiglia e appunto tutta la località di metauriglia si era distinta per la coltivazione dei cavoli l'ecomuseo vuole appunto salvaguardare queste tradizioni e almeno poter riuscire a salvare una delle casette tipiche perché altrimenti si ampliano e si modificano e si e non c'è più quel aspetto originario che avevano una volta vediamo le altre pagine di sufano del corriere abbiamo una notizia di cronaca l'inferno fino alla violenza sessuale adesso lui rischia cinque anni di carcere è stato arrestato dai carabinieri nel febbraio scorso la richiesta del pubblico ministero nei confronti di un marrocchino di 49 anni di cartoceto operaio tutto risale al febbraio del 2021 quando era scattato l'arresto da parte dei carabinieri di fano e secondo la denuncia presentata dalla moglie i due vivevano separati in casa dopo anni di maltrattamenti e vessazioni nei confronti appunto della donna la separazione era in atto l'uomo però voleva ancora dei rapporti sessuali e avrebbe tentato di violentare la donna che è una polacca di 45 anni ci sarebbero state anche svariate minacce di morte e in una occasione la donna ha parlato di un coltello brandito appunto dal marito per intimidirla quindi l'uomo rischia cinque anni di carcere e poi un articolo a fondo pagina che evidenzia come l'orologio di piazza è fermo e sempre mezzogiorno o mezzanotte uno schiaffo all'immagine della città si afferma nel titolo durante i lavori di ristrutturazione di palazzo nolfi dove sarà insediata la nuova sede dell'archivio di stato emerge un mosaico di epoca romana ma nessuno ne sapeva niente la notizia è stata orecchiata dal presidente del centro studi vitruviani dino zachilli il quale evidenzia ma insomma possibile che queste notizie non debbano essere divulgate in realtà poi il centro storico è impegnato nella redazione della mappa delle aree archeologiche della città e se queste notizie vengono tenute segrete ma non si sa perché e poi non vengono divulgate è difficile poi realizzare un simile incarico zachilli dunque ammareggiato una volta rilevato dai tecnici che assistono ai lavori sono appunto i delegati dalla sovrintendenza il mosaico è stato ricoperto ma nessuno ne ha saputo niente gestione di neve gelo il budget è di mezzare ed è il vice sindaco assessore alla protezione civile cristian fanesi che interviene su quanto compiuto dai mezzi di soccorso durante la piccola nevicata dei giorni scorsi ci sono fondi a disposizione dunque anno scorso sono stati spesi 13 mila euro quest'anno in questa piccola nevicata 6 mila da corrispondere ad una sola ditta comunque i soldi eventualmente se si ricapitasse un'emergenza ci saranno appunto a bilancio a fossombrone situazione idrica e siccità si chiede un incontro al lato che è l'autorità d'ambito il sindaco di fossombrone massimo berloni interviene sull'ipotesi di utilizzo del pozzo di sant'anna e qui c'è sempre la solita il solito problema cioè abbiamo delle riserve idriche importanti il pozzo di sant'anna il pozzo del burano abbiamo d'altra parte un'esigenza di rifornire d'acqua potabile il territorio nel periodo di siccità che fare utilizzare questa risorsa che è un tesoro di carattere ambientale oppure soffrire la sete è appunto la polemica e i dubbi continuano sulle torrente morsina si è scoperto uno sversamento di liquame acque scure e cattivi odori intervengono le guardie ecologiche intervengono i carabinieri hanno fatto una indagine una signora di caglia ha segnalato questo problema è stato accertato che lo scarico proveniva dal lagone di raccolta di un'azienda zootecnica non è la prima volta che questo accade altre volte appunto le forze sono intervenute in altre cinque situazioni simili ci troviamo in una situazione difficile hanno dichiarato per dimostrare le reali responsabilità dal momento che i regolamenti regionali sono abbastanza complessi e non aiutano il controllo del territorio a piobico si torna a sciare sul monte nerone apertura in notturna per l'impianto oggi l'inaugurazione alle ore 18 si inaugura l'illuminazione della pista numero 1 poi sugli sci dalle 20 alle 23 30 quindi anche in notturna si può sciare con tutta sicurezza grazie appunto alla illuminazione vediamo anche la pagina di senigallia dove si parla di quanto accaduto alla lanterna azzurra di corinaldo discoteca trappola chieste cinque condanne il pm un mix di favoritismi e avidità sappiamo che si sta celebrando il processo in ancona sono sette gli accusati per cinque sono state chieste le condanne a giudizio sono i proprietari i gestori e la security della lanterna azzurra la requisitoria oltre 21 anni e sono state richieste due assoluzioni quindi cinque condanne dei sette imputati oltre 21 anni di carcere complessivi chiesti dalla procura per cinque dei sette imputati che hanno scelto il giudizio abbreviato nel processo bis sulla strage di sulla strage di corinaldo e poi vediamo invece l'altro processo quello che si svolge appunto in corte d'appello di sei rapinatori accusati ad avere spruzzato il gas urticante scatenando la calca in cui morirono soffocate sei persone banda dello spray in corte di appello primari impiegati professori tutte le tessere da incastrare nel mosaico dei vaccini fasulli caccia ad altri intermediari e clienti dell'infermiere che vendeva green pass e qui vediamo in questa serie di fotografie questa è una notizia che apparsa nei giorni scorsi ora il corriere la approfondisce e vediamo come un infermiere che faceva invece di fare le le iniezioni del vaccino le buttava nel un cestino insomma in un bidoncino e questo ovviamente favoriva chi non voleva fare il vaccino e quindi l'uomo è stato individuato scoperto anche dalle telecamere e ora si cercano eventuali intermediari eventuali complici vediamo la pagina regionale restiamo sempre sulla pagina regionale dopo questa notizia che proviene da ancona e parliamo di sanità parliamo diffusamente di sanità perché oggi i giornali hanno pagine e pagine ancora su questo argomento acquaroli è enorme il numero degli isolati nella nostra regione in dad ci sono 313 classi solo per quanto riguarda l'aspetto scolastico oltre 30 mila i marchigiani in quarantena 315 sono operatori sanitari quindi infermieri dottori personale ospedaliero e c'è un pressing delle regioni per gli asintomatici vaccinati sette giorni a casa psicosi omicron caro mi costi con mascherine test fai da te i molecolari tra i 60 e i 100 euro e vediamo questo articolo perché in questa tabella sono riassunti i costi per quanto riguarda la difesa dalla pandemia 75 centesimi costa una mascherina ffp2 il prezzo è stato calmerato 9 euro e 90 centesimi i tamponi rapidi fai da te a casa 8 euro i tamponi antigenico in farmacia per i 12 e 17 anni 15 euro il tampone per tutte le altre fasce di età 15 40 euro i tamponi in laboratorio e la spesa veramente non trascurabile tra gli 80 e i 100 euro per un tampone molecolare questo è un po il conto della spesa nomina dei grandi elettori non tralasciamo questa notizia per capire chi eleggerà tra i marchigiani il capo il prossimo capo dello stato ebbene sono stati nominati il presidente francesco acquaroli il presidente del consiglio regionale dino latini e per quanto riguarda le minoranze il capogruppo del partito democratico maurizio mangialardi ma tutto non è andato in maniera tranquilla in maniera serena accidenti non poteva essere ebbene dai banchi delle minoranze un voto è andato al centrodestra cioè dai banchi del centro sinistra è andato a quello del centrodestra e chi potesse essere questo franco tiratore è stato oggetto di ricerche di supposizioni di tesi che hanno animato un po il confronto in tutta la giornata di ieri e poi c'è stato un giallo delle schede bianche ne sono state annunciate due ma alla fine ne è risultata una sola la capogruppo del 5 dei 5 stelle marta ruggeri ha anche richiesto che si andasse ad una nuova votazione ma comunque alla fine sono immersi i tre elettori grandi elettori marchigiani per il presidente appunto acquaroli latini e mangialardi ricordiamo che la prima votazione per le elezioni del nuovo capo dello dello stato sarà il 24 gennaio vediamo dunque veniamo a pesaro veniamo a pesaro dove ancora si parla di sanità teste per i guariti boom di richieste ma l'aspis è pronta ora le farmacie possono certificare con un tampone la guarigione dei positivi da covid il presidente pieri già l'altra sera aveva avviato la macchina organizzativa le farmacie gestite nei comuni della romagna hanno fatto da rodaggio e quindi anche nella nostra provincia si è pronti per svolgere questo servizio ma sui medici di famiglia comunque ci sono ancora molte molte difficoltà infatti il corriere adriatico dice piomba un carico enorme i dottori alle prese con i pazienti positivi e quelli con altre patologie non dobbiamo dimenticare le altre patologie perché in questo momento stanno soffrendo oberate così forse un po discoste dalla grande pressione che effettua la pandemia medici di famiglia inondati dalle richieste dei pazienti il giorno dopo dell'uscita delle nuove regole di fine quarantena da ieri infatti è sufficiente un tampone antigenico rapido anche se seguito dal proprio medico di famiglia o in farmacia o in un laboratorio autorizzato per essere dichiarati guariti e quindi un nuovo incarico in più che si rivolge sui medici di famiglia il booster ai docenti ovvero la terza dose va anticipato contro i rischi di sospensione lo richiede il preside del liceo marconi rossini non c'è soltanto il rompicapo della dad a pesare sullo svolgimento delle elezioni lo rimarca appunto rossini confidando in regione asur e l'ufficio scolastico ci sono anche da tutelare gli insegnanti non solo gli studenti perché se non ci sono poi gli insegnanti ovviamente l'azione didattica sia in presenza che in a casa non si svolge non può essere fatta e quindi i docenti secondo secondo il preside rossini dovrebbero avere una corsia preferenziale per effettuare la terza dose altrimenti poi scade il loro green pass e quindi devono restare a casa ricci avvisa salta martini ci stai chiedendo troppo biancani chiede la riapertura del covid center di civita nova per per attenuare la pressione che la pandemia sta svolgendo sulle strutture sanitarie di pesaro e assunzioni anche di nuovo personale ma la scelta di fare in san salvatore il collettore dei pazienti è stata firmata però da ceriscioli e quindi anche il pd deve fare un mea culpa villa marina complesso senza pace per pesa lo studi nuova asta deserta non basta il ribasso di 800 mila euro un ribasso considerevole il complesso impse in balia dell'usura del tempo e dei balordi purtroppo i balordi stanno facendo veramente stanno contribuendo al degrado di questa struttura marche multiservizi al lavoro via fratti e transennata e c'è la gimicana delle strade alternative i mezzi dirottati su altri percorsi in questo articolo vengono delineati gli altri percorsi il cantiere poi durerà un mese in attesa dell'intervento per la ciclabile ora non vi sto a dire tutte le deviazioni sono un po complesse e chi vuole chi ha insomma la necessità di percorrere queste strade può leggere questo articolo e veniamo ora al resto del carlino dove vediamo che la pagina di fano è dedicata alla polemica suscitata da una domanda inserita nel questionario del comune del laboratorio città delle bambine ai bambini delle scuole materne infatti per identificare pur mantenendo la segretezza delle risposte il sesso del bambino oltre a maschio e femmina c'era un quadratino dove c'era scritto anche altro e questo ha destato la polemica specialmente delle opposizioni infuria la polemica per la domanda inserita nel questionario del comune rivolto alle famiglie ieri il test è stato corretto ma la pezza non basta interviene il senatore della lega chi è simone pilon senatore della lega noto anche per le sue battaglie contro il decreto zan l'idl zan e con pilon interviene anche riccardo augusto marchetti il commissario regionale appunto della stessa forza politica è vergognoso affermano entrambi utilizzare i bambini come strumenti di propaganda a favore dei gender pollegioni dell'udc rincara la dose non regge la tesi del refuso c'è la volontà di far passare certi temi anche nei confronti dei bambini più piccoli insomma è stato un errore da non così da non trascurare una pista da cross proprio dove nidifica il frattino il frattino che è un uccellino un uccellino che è protetto ovviamente perché va scomparendo è l'argonauta accusa non si può appunto utilizzare la spiaggia anche per questioni ambientali per fare certe manovre per utilizzare per certi scopi e l'associazione appunto al dito contro l'uso improprio evitato dalla legge della spiaggia di torretto insomma una cosa che non si deve fare anche il resto del carlino interviene sul carnevale rinviato a luglio e scoppia il caso del nuovo direttivo perché perché nella chi organizzerà chi organizzerà il carnevale a luglio dato che il nuovo direttivo dopo tre anni scade prima cioè dovrebbe scadere non so a giugno o a maggio ebbene l'assessore tiene lucarelli dice che il nuovo che il rinnovo del consiglio direttivo non interferirà con il carnevale di luglio e quindi tutto sarà organizzato nei modi opportuni comunque la presidente dell'ente carnevalesca maria flora gian marioli non si rinnoverà per quanto riguarda la copertura di questo ruolo il covid colpisce anche 10 neturbini quindi l'aset deve per forza di cose ridurre il servizio di spazzamento sulle strade e delle piazze cittadine se ci sarà qualche cartaccia in più bisogna avere pazienza accoglie al metauro paperelle prodotti bio in regalo ai nuovi nati un kit dove c'è una copertina un ciuccio un giochino insomma così per festeggiare le nuove nascite nel comune però insomma le famiglie non è che se la passano molte molto bene sono famiglie in crisi per il caro bolletta in arrivo fino a 400 euro di sostegno questo a san costanzo il comune distribuirà contributi a 29 nuclei familiari i fondi derivanti dalle donazioni dei cittadini quindi un clima di solidarietà che ha coinvolto tutta la comunità san costanzese che ricordiamo sabato festeggia il suo santo patrono a urbino bancarotta chiesto rinvio giudizio per i cipriani in realtà questa è una notizia che proviene non proprio da urbino ma dal circondario si tratta infatti di pietra rubbia gli imprenditori nel merino della guardia di finanza sono due titolari padre e figlio di una ditta di una ditta di apparecchiature elettriche dichiarata fallita tra il 2015 e il 2019 si tratta di andrea cipriano di 73 anni e dei figli elena 48 e marco di 46 a cui fanno capo le quattro imprese cif cf light division con sede a pietra rubbia metal srl cif srl e ibis srl sono le quattro ditte appunto che sono state dichiarate fallite tutto il mondo dello sport per l'addio a peppe peppe giuseppe stulzini morto a 66 anni il suo amore per il tennis e calcio ricordato anche dalla sorella era un apprezzato cronista nelle sue presenze radiofoniche si è sempre distinto per l'equilibrio dei suoi commenti era anche amante delle statistiche la sua dedizione al calcio emergeva da come sapeva leggerlo dai numeri e dai numeri e riusciva a capire insomma l'andamento non solo delle situazioni ma anche andamento psicologico dei personaggi in ballo vediamo ora la pagina di pesaro del resto del carlino abbiamo sempre qui molti articoli che riguardano la sanità ambulatorio anti ricoveri già 18 pazienti va forte il monoclonale meno le compresse da lunedì è iniziata all'ospedale san salvatori di pesaro la sperimentazione unica in tutta la regione per somministrare a domicilio le nuove terapie e cercare di abbassare le ospedalizzazioni pazienti dai 20 ai 94 anni con sintomi non gravi frausini il direttore del reparto di medicina appunto di marche nord negli ultimi giorni c'è stato un boom di richieste per quanto riguarda queste cure queste cure alternative tamponi rapidi per uscire dall'isolamento le farmacie sono pronte medici e pediatri in attesa insomma questa risoluzione della regione che permette appunto di fare questi tamponi rapidi per uscire dalle quarantene ha ottenuto il successo sperato il test di negativizzazione non è più appannaggio dell'asur soltanto dopo le nuove regole disposte dalla regione pieri dell'aspes noi informati all'ultimo momento ma non ci siamo fatti trovare impreparati oggi è prevista una riunione dei camici bianchi l'adesione è volontaria sappiamo come sono impiccati anche i medici di base l'abbiamo visto prima leggendo il corriere adriatico positivi in classe la giungla dei protocolli intanto si potenziano i drive per i tamponi tracciamento degli studenti l'asur si riorganizza per garantire l'esecuzione dei test nei tempi previsti e a costo zero insomma la scuola è sempre uno dei settori che soffre di più per questa situazione perché è un luogo dove appunto i virologi affermano ci sia più la possibilità di propagazione del virus. A Marche Nord però ci sono anche 60 dipendenti in quarantena i sindacati lanciano l'allarme le forze in campo scarseggiano e il virus non guarda in faccia tra pazienti cittadini uomini donne giovani vecchi anziani infermieri o altre professioni. Arriva Landini nella città ha precariato diffuso assemblea generale della CGL regionale ieri all'hotel Flaminio presenti 100 persone altrettante in remoto. Barbaresi abbiamo affrontato i temi più pressanti sul tappeto. Maurizio Landini il grande capo della CGL nazionale è stato presente a questa iniziativa pesarese. Saldi senza boom e dura dopo le feste non decollano gli affari nei negozi in tempo di ribassi. Un po' perché gli acquisti natalizi sono finiti un po' perché è anche colpa del covid. Il covid potrebbe mettere in forze il concerto dei Maneskin che è stato programmato all'astronave di Pesaro nel mese di febbraio. Venerdì 18 è la nuova data da scrivere sul calendario per il concerto più atteso. Slittamento inevitabile, i biglietti restano validi. Insomma al momento si rinvia ma chissà poi se si riuscirà a fare. E concludiamo la rassegna stampa con un atto vandalico compiuto ai danni del quartiere di Vismara. Ancora i baby vandali, danni al centro civico e al parco e vediamo qui nelle foto il disastro che hanno compiuto. Porte rotte, attrezzi e mobiglia distrutti. Vediamo anche qui alcune colonnine abbattute. Insomma una situazione che è deprecabile. Sono ragazzini tra i 15 e i 20 anni. Concludiamo la rassegna stampa con una notizia di sport. Vediamo subito la Vis. Ora potrebbe rilanciare la squadra bianco-rossa Denuzzo. La società pensa come sostituire Giraudo che andrà alla regina. E per quanto riguarda l'Alma il Fano verso un altro rinvio. Sono 11 i positivi in casa Granata e quindi si dovrà ancora rinviare le performance sul campo. E questo è tutto per il momento. Massimo Foghetti vi saluta, vi dà appuntamento come sempre a domani alle ore 7 e per le notizie del Tg di oggi alle 20.30 di questa sera. Buona giornata.